Vigilia tesa in casa Aquilotta. La partita con la Vispesaro può segnare lo spartiacque della stagione per il Montevarchi. La squadra ha accusato troppe battute a vuoto. Deve reagire. Dobbiamente la situazione è un po' delicata, però il gruppo è molto unito e stiamo vivendo anche un periodo di sfortuna secondo me in questo momento. Stiamo ricevendo anche molte critiche, però penso che la forza del gruppo venga fuori. L'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso che nei momenti di difficoltà all'inizio siamo sempre venuti fuori, quindi dobbiamo continuare a lavorare duro. È l'unica medicina per tirarci fuori da queste situazioni. C'è una dinamica che preoccupa troppe le reti subite su calcio d'angolo. Noi ci lavoriamo anche molto, evidentemente poniamo poca attenzione e poco atteggiamento nelle palle inattive. Sicuramente è un aspetto da non trascurare, quindi cercheremo di fare meglio nelle prossime domeniche. Contro la Vispesaro anche il ruolo del pubblico dovrà essere decisivo e Amatucci chiede ai propri tifosi di continuare a stare vicini alla squadra. L'aiuto non ci è mai mancato, perché tutte le domeniche i tifosi ci hanno sempre sostenuto, sono venuti anche a Sassari, quindi sono un po' come il dodicesimo uomo in campo. Sta solo a noi, alla fine in campo ci andiamo noi, quindi dobbiamo tirare fuori qualcosa in più tutti per riuscire a tirarci fuori dal pantano dei play-out.